Nemici in avvicinamento, facciamoli fuori o catturiamo la loro base. Andiamo! Hanno distrutto uno dei nostri carri! Per i scopi e pronti, vediamo l'occhiata in giro! Pronti a sparare! Non abbiamo perforato la loro corazza! Nemico colpito! Questo è rimbalzato! Ne abbiamo fatto male! Dannazione! È rimbalzato! Abbiamo buccato la loro corazza! Questo è rimbalzato! Alleato distrutto! Carro nemico fuori gioco! Ricaricato! Ricaricato! Peccato! Ci hanno preso di mira! Ci hanno immobilizzati! Pronti a fare fuoco! Colpito! Mi è rimbalzato addosso! Veicolo avversario distrutto! Questo gli è passato attraverso! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico distrutto! Ricaricato! Peccato! Centrato e distrutto! Il miglior lavoro di sempre! Calico! Uncco! Uncco! Unconto! Uncco! 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 Grazie.